Vediamo le attività in cui mettiamo tutto me stesso, lavoro profondo, gestione e miglioramento del processo, spostatevi sempre più in alto. Se c'è una cosa che io odio fare è preparare un corso, non è tenere il corso, per me è naturale, non mi pesa, sarà che ormai faccio questo, non percepisco ben che minimo fastidio, mi piace. Prepararlo mi dà davvero noia. Sapete perché? Perché è complesso, o comunque è difficile, selezionare le informazioni affinché chissà dall'altra parte in quel determinato tempo possa apprendere quanto più possibile. Quindi, se io devo preparare un corso, per me è difficile, perché? Perché mi rendo conto che è complicato il scegliere cosa dire, cosa non dire, cosa fare e cosa non fare. E questa cosa mi mette ansia. E puntualmente mi riduco sempre all'ultimo secondo utile prima di pensare a quello che devo fare. Tenere il corso non mi crea nessun problema. Cosa che mi piace fare tantissimo è lavorare con i miei clienti, quindi le call, cioè ci sono giornate in cui sento otto persone diverse. Non è che risolviamo i problemi del mondo, però otto e otto, cioè qualche grana qualcuno c'era sempre. Eppure arrivo a fine serata che non dico di essere riposato, però sto benissimo. Perché? Perché è un'attività che mi piace fare. Se dovessi scegliere tra il tenere il corso e parlare con le persone, o comunque risolvere problemi alle persone, io preferirei risolvere i problemi alle persone. Quando ero in azienda, sapete cosa che mi piaceva tantissimo fare? Trovare soluzioni ai clienti. Poi tutto ciò che era l'invio dell'ordine, la controlla della conferma d'ordine, erano cose che io odiavo, tant'è che non le facevo io. Però magari mi sorbivo due o tre clienti al giorno in cui ho questo problema, come devo fare, cioè quello mi piaceva proprio tantissimo, o magari anche qualche progettista. Perché? Perché mi è sempre piaciuto risolvere problemi, o comunque dare soluzioni alle persone. Oggi che faccio? Faccio solo questo. Che cosa mi piace fare? Gestire l'azienda. Cioè io ho iniziato da solo, oggi siamo in dieci. Quella è una cosa che mi piace tantissimo fare. Quindi gestire i collaboratori, delegarli, farli crescere, sistematizzare i processi, aiutarli, quello mi piace tantissimo. Tanto è una cosa che faccio quotidianamente. Però poi tutto il resto non lo faccio. Ma perché? Perché alcune cose sì sono importanti, ma non le faccio io. Altre cose, tipo sollecitare una persona affinché paghi una fattura, per me è una cosa che io ho sempre odiato. Fare follow-up, io ho sempre odiato. Ero in ballo, ovviamente lo facevo. Ma se posso scegliere, lo faccio fare ad altri. Questo per dirvi cosa? Che se otteniamo risultati, è anche e soprattutto per questo. Cioè ci liberiamo di quelle cose che non ci piace fare. Ci concentriamo su quelle cose che invece ci piace fare e guarda caso i risultati arrivano. Grazie a tutti.